buongiorno a tutti cari amici cripto investitori e bentornati in un nuovo video scusate la location ma ancora siamo in lavoro in corso sia qui che a casa vecchia che a casa nuova veramente non capisco più nulla tra l'altro fa veramente molto caldo oggi e qua non ho il clima a casa sì però devo lavorare qua parentesi a parte bentornati in un nuovo video oggi continuo la serie per quanto riguarda il mitico copy trading però ci sposteremo su bitmart nuova piattaforma per me ma in realtà da diversi anni sul mercato che attenzione attenzione udite udite non richiede in questo momento il KYC quindi potete registrarvi senza dover dare alcun dato ok solo email e password molto molto semplice in descrizione vi ricordo subito che vi lascerò il link con tutte le offerte annesse in modo tale che se anche voi vogliate provare la piattaforma o provare a fare copy trading attenzione vi ricordo che ad alto rischio potete sfruttare tutti i bonus del momento ora senza perderci nuovamente in chiacchiere andiamo a vedere un po la piattaforma e soprattutto iniziamo a copiare qualche trader andiamo prima di vedere la piattaforma vi informo dell'offerta che hanno creato in questo momento dedicata alla mia community quindi sfruttiamola dove depositando una x cifra facendo trading per x volume riceveremo del bonus da poi sfruttare a nostra volta nel trading e sbloccare quelli che sono poi i profitti relativi alle nostre operazioni vediamo qua ci sono varie task ad esempio deposita 500 fai 10k di volume e ai 50 dollari deposita 1000 e fai 40k di volume 100 dollari deposita 4k 150k di volume 300 dollari bonus e vediamo appunto qua che c'è bisogno di aderire join now e una volta depositato e fatto trading andiamo a sbloccare i nostri bonus incredibili fino ad arrivare a appunto 1000 dollari di bonus su 10k quindi un 10% in realtà una volta che si ha 10.000 dollari un milione di volume è veramente facile a fare poi abbiamo delle special tasks dove è possibile sbloccare l'air drop di pepe solo per i primi 2000 utenti e vediamo qua come fare e qua appunto altre chance per sbloccare bonus eccetera eccetera comunque vi lascio la pagina in descrizione chiaramente vi ricordo di lasciare un mi piace di supporto, di iscrivervi al canale e soprattutto un commentino con conoscevate questa piattaforma? sì o no? e fatemi sapere come vi trovate nel caso comunque piattaforma che si presenta molto similare chiaramente alle altre e che sostanzialmente ci fa sentire a nostro agio perché appunto è veramente molto facile e intuitiva e simile ripeto un pochino tutte le piattaforme tra loro sono molto simili e lo fanno apposta chiaramente è possibile scaricarla sul play store e app store è nata nel 2017 ma è approdata nel mercato italiano relativamente in modo recente ok e sostanzialmente ci dà la possibilità di fare la qualunque comprare le cripto e felici siamo andare a fare un trade classico spot e margin operare su future copy trading che è la funzione che vedremo meglio oggi earning dove è possibile generare interessi giornalieri attività fino al 10% con gli sdt questo è devastante quasi quasi mi metto a farlo anch'io al volo e soprattutto classico staking tutte le varie modalità che ci è possibile andare a utilizzare per generare denaro profitto interessi come lo volete chiamare anche un nft marketplace cosa da non sottovalutare bitmart nft che può essere interessante fatto veramente veramente molto bene e poi qua abbiamo tipo l'infinito abbiamo launchpad istitution vip programma di affiliazione programma broker ragazzi questo checks non ha nulla a togliere assolutamente confronto a tanti altri allora senza perderci nuovamente in super discorsi robe lunghe ma ho voluto introdurvelo perché è la prima volta che ne parliamo qua sul canale andiamo a vedere la funzione di copy trading in questo momento vi dirò la verità non ci sono tanti trader ed è il problema di bitmart in questo momento però sono molto fiducioso che nel medio termine andremo a vedere questa piattaforma svilupparsi perché è fatta veramente molto 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 bene per il resto qua vediamo il ranking l'unico che così a occhio mi dà soprattutto su un grafico un po di decenza e lui andiamo a vedere un po ritorno in sette giorni il 114% è anche troppo esagerato drawdown 1.58 tanta roba questo vediamo che il suo profitto beh non ha un grosso capitale in questo momento si piglia il 10% di profit sharing e poi in generale vabbè ha fatto diversi trade ma non è che trada da così tanto tempo tra l'altro l'ultimo trade è aperto proprio oggi e qua sono le coppie che trada per la maggior parte quindi andiamo a fare copy e attendiamo un secondo qua quello che dobbiamo fare è sicuramente è fare secondo me una scelta perché ora ve lo traduco per semplificarvi nuovamente la situazione margine fisso quindi ogni volta investi lo stesso importo ogni volta investi lo stesso multiplo dell'importo o rapporto dell'attività quindi investi ogni volta una percentuale dell'importo investito dal trader principale il rapporto è il tuo patrimonio rispetto al patrimonio del trader principale quindi o possiamo decidere di utilizzare per ogni operazione un margine fisso che può essere di 10, 20, 30 dollari quello che sia o decidiamo di farlo in percentuale io faccio margine fisso e devo andare a trasferire i fondi ecco in questo caso una funzione che è un po' scomoda di Bitmart è che non possiamo trasferire i fondi da qui cioè dobbiamo fare un attimo un giro un po' cretino quindi intanto leggiamo una nota l'ordine di copia valerà quando il saldo del tuo account del copy trade è inferiore al margine fisso eccetera eccetera quindi vabbè capiamo che se noi mettiamo sul copy trading 100 dollari e lui ha un margine di operazione di 30 dollari a operazione se già per 3 volte perde ci restano 10 dollari non farà partire l'operazione successiva comunque come facciamo ricaricare il copy trading andiamo su ora direi anche di togliere la traduzione italiana andiamo su assets future perché opera tramite i future e da qua facciamo transfer da spot a future e decidiamo di trasferire gli sdt corretto 50 dollari lo confermo qua potrebbe darsi che vi chiederà dei dati tipo nome cognome dati nascita in questo momento ripeto in questo momento potete mettere qualsiasi dati che ve li accetterà d'accordo? mi sono fatto capire perfetto comunque 50 dollari li abbiamo spostati ora ritorniamo su copy trading andiamo a prender lui andiamo a copiarlo ok trasferiamo 50 dollari boom facciamo che per operazione quindi margine fisso facciamo 10 dollari qua vediamo che usiamo sì le leve del trader non ce ne frega veramente una mazza ok sì io direi di tenere anche le coppie di cripto uguali dato che facciamo a 10 dollari operazione non me ne frega una mazza e per il resto lo farei qui tra l'altro c'è anche la possibilità qua di fare notavo un auto unfollow quando per 21 giorni non apre operazioni ma io lo attiverei accettiamo e confermiamo la copia attualmente ripeto purtroppo non ci sono tanti trader vediamo quei pochi come si comportano per il resto ecco qua my copy trading esce qui molto bello direi alla grande tra l'altro se siete i trader e volete entrare adesso bitmart proprio perché sostanzialmente non ha trader di un certo tipo ne ha pochi sta facendo degli ottimi ottimi programmi di affiliazione io quasi quasi sono tentato comunque abbiamo iniziato a copiare il mitico angry whale speriamo che questa whale sia veramente angry tra l'altro questo che foto ha sono curioso vedelo con voi shobi una macchina che non esiste ah un'ottima bentley giusto una bentley continua dal gt mi sembra comunque io diciamo penso di avervi mostrato tutto anche sulla copia dobbiamo solo attendere di vedere cosa fa il nostro mitico angry whale che potrebbe essere la svolta come no piccola postilla che faccio sempre alla fine dei video sul copy trading vi ricordo il copy trading non è la via per diventare multimilionari in due giorni è semplicemente un modo di diversificare investimenti quando si ha un capitale già investito in maniera tranquilla e vogliamo spingerlo un pochino più forte ma attenzione con dei rischi che chiaramente sono più alti perché il copy trading non è gestito a noi è gestito da una seconda persona che copiamo in automatico non sappiamo mai come trada questa persona quindi sostanzialmente come dire è una pratica ad alto rischio per il resto può essere buono per diversificare e avere quella spinta all'em più sul capitale qualora il trader dovesse essere decente per il resto io direi che ci fermiamo qua ci saranno sicuramente altri episodi in cui parleremo di bitmart altre occasioni in cui ve ne porterò dei contenuti noi ci vediamo al prossimo video e grazie mille della visione